Il fatto che si è stati dentro una gara difficilissima, maschia, sporca, che sapevamo che sarebbe stata così intensissima da quel punto di vista, secondo me abbiamo fatto prestazione, potevamo sicuramente andare un pochino dietro o meno alla... mi viene confusione ma in realtà non è neanche il termine giusto, la cauticità forse del primo tempo secondo me quando poi dopo nella fase finale della prima frazione e sul secondo tempo abbiamo aggiustato un pochino le cose la partita si è rimessa anche su quell'andamento che ci poteva stare, sapevamo che come è stata, sarebbe stata colpo su colpo avevamo di fronte una squadra importante, però alla fine è stata come avremmo dovuto far sì che doveva essere fin da subito grazie